Tappa catanzarese nello scorso fine settimana per il sottosegretario della salute Vito De Filippo in un incontro con politici e vertici provinciali dell'azienda sanitaria toccati i principali nervi scoperti di un settore sulla via della ripresa dopo anni difficili in Calabria. Rilanciare il comparto significa infatti ridare anzitutto fiducia a chi vi opera. La fase di rientro di questa sanità ha determinato effetti ovviamente molto complicati sul territorio c'è bisogno di fare un'azione di riconversione delle strutture ospedaliere, investire molto sul territorio dare fiducia sostanzialmente agli operatori e come può succedere anche in un sistema sanitario che ha una storia un po' complicata sicuramente ci possono essere prospettive positive perché l'Italia ha un grande sistema sanitario nazionale, c'è una tutela universale dei diritti che deve riguardare anche ovviamente i calabresi e ci sono condizioni finanziarie per fare anche in questa terra cose buone. Lo sblocco del turnover costituisce il tema maggiormente dibattuto nelle ultime settimane. Tornare ad assumere è obiettivo meno lontano di quel che potrebbe apparire. Vito De Filippo chiarisce infatti le tappe che potrebbero condurre presto allo sblocco delle assunzioni nel comparto sanitario. La legge è già prevista anche per le regioni in fase di rientro di uno sblocco del 15% applicato già per esempio in Campania e anche in altre regioni dove c'erano condizioni finanziarie complicate. La valutazione dei documenti di questa regione non ha consentito fino ad oggi lo sblocco anche per la Calabria ma è prevista anche per la Calabria nella sostanza e una volta che il tavolo nazionale avrà verificato la bontà di alcune questioni, di alcuni elementi e di alcuni dati io sono convinto che toccherà anche alla Calabria avere questo diritto.